Occhio all'Italia che può ripartire, Campaniello è 1-2 contro 1, palla dentro, controllo e sinistro! Vincente da parte di Blini, 1-0 Italia! Ripartenza perfetta, Campaniello, il cross, palla che resta lì, palo! E poi si salva, l'Italia che ha preso il palo con Reggiani. Brisco, Campaniello, Blini può infilarsi, Blini, mezzo c'è Damiano, cercato e trovato! Dopo il gol assist di Blini per Damiano, 2-0 Italia! Va Robinson, Idrissa, la grande parata di Nava che evita l'autogol e salva l'Italia! Pallone dentro per Inasio che vince il duello, Inasio può chiuderla, Meredith non è finita, Campaniello! La fine con l'aiuto, con una deviazione, invece a trovare le 3-0 Italia! Cerca 200 secondi, qualcosa di più intanto chance per l'Italia con Luongo! Traversa Inasio, alla fine è arrivato, il gol di Inasio al terzo tentativo, quello buono! 4-0 Italia! Non c'è più tempo, ecco la parola fine! L'Italia Battegales è 4-0! E di fatto conquista il passaggio alla fase successiva! Grazie a tutti!